Sono Guglielmo di Nogaret, vengo dal mondo delle ombre e vengo qua sul web a parlarvi di me perché ho sentito che in questi giorni i vostri politici italiani stanno dandosi da fare per le celebrazioni dell'Unità d'Italia, che non c'è mai stata l'Unità d'Italia perché per fare una nazione ci vogliono secoli, secoli, secoli di tribolazione, voi l'avete fatta al 448 con l'aiuto determinante di noi francesi, con l'aiuto determinante degli inglesi, vedi la spedizione dei mille di Garibaldi e poi con l'aiuto determinante della Prussia, sì, sì, della Prussia, vedi la presa del Veneto, ci vogliono secoli, secoli e secoli per fare uno Stato, un vero Stato, ce n'avete voi ancora di strada da fare, cari italiani, prima di fare un vero Stato unitario o comunque di avere una nazione omogenea, è omogenea, anche se non è unitario non fa niente. Beh, insomma, io sono Guglielmo di Nogaret e sono stato il primo ministro, diciamo così, è il plenipotenziario del mio re, il re di Francia, Filippo il Bello, che è Filippo il Bello che ha posto le basi dello Stato francese e per porre le basi dello Stato però bisogna organizzare la burocrazia, l'esercito, ci vogliono i soldi e in Francia ci aveva, ah, siamo, immaginate voi, il 1300 d.C., tanto per fare un'idea, anno più, anno meno, contapoco, e noi avevamo, il mio re aveva bisogno di soldi, i preti che avevano tante ricchezze, preti, cartinali, vescovi, non le volevano pagare le tasse, capito? Già, già, già allora, volevano fare i furbi già allora, e il mio re invece, il mio re si è dato da fare e quello che aveva dato ordini ai preti di Francia di non pagare le tasse era un certo papa che si chiamava Boniface VIII, Boniface VIII, del quale il mio amico Iancopone da Todi, che voi lo conoscete perché lo trovate pure nelle antologie della scuola media inferiore e superiori, era un padre francescano, eh, Iancopone da Todi, lo definì il novello anticristo, un francescano che disse del papa, quello lì è un novello anticristo, un nuovo anticristo, pensate un po' voi chi c'è in San Pietro, un francescano l'ha detto, eh, un francescano, vabbè, il re, il re, il re, Filippo il Bello mi ha detto, vai a Roma, vai a Roma con un piccolo contingente militare e io, Guglielmo di Nogaret, eh, legato, legato imperiale, legato del re, con i piedi poteri, con un piccolo esercito, con un trappello, sono sceso in Italia. Quando Boniface VIII, quel simoniaco, quel simoniaco, perché l'ha detto pure Dante, che c'era un posticino nell'inferno per Boniface VIII, un posticino all'inferno, pure il vostro Dante Lighieri l'ha detto, eh, pure il vostro Dante Lighieri, a parte quello che ha detto fra Iacopone da Todi, l'amico mio Iacopone da Todi qua, gli ha detto, novello anticristo, novello siamo sempre qua, con Iacopone da Todi, con Filippo il Bello, eh, e Boniface VIII sta alla larga. E noi andiamo giù a Roma, e che fa sto Boniface VIII? Non ti scappa da Nanni? Il suo feudo prediletto, il suo feudo prediletto, e noi che facciamo? Andiamo a Danagni. Accanto a me c'era pure l'amico, il principe Sciarra Colonna, che pure lui c'aveva al dente avvelenato con Boniface VIII. Sfondiamo la porta lì del palazzo papale ad Aragni, andiamo in un grande salone, e lì c'era il Papa Boniface VIII, questo Papa che parlava del sole e della luna, diceva che il Papa era come il sole, e i re e i imperatori erano come la luna, come la luna, come la luna, lui il sole. Sapete, voleva fondare quella che si chiama teocrazia, pensate un po' voi, pensate, la teocrazia, e va bene, e allora arriviamo lì, mi metto, io, Guglielmo di Nocran, mi metto a discutere con Boniface VIII, e questo mi dice, io sono rappresentante di Lionterra, allora Sciarra Colonna, il principe Sciarra Colonna, si stava preparando a dargli una grandissima sberla, e io ho detto, fermete, fermete, perché la sberla gliela volevo dare io, e io ho piantato uno schiaffone che per poco stomaco simoniaco cascava per terra, e io gli ho detto, se tu sei protetto da Dio, e io sono protetto dal mio re, e vediamo un po' chi è più forte, se il tuo Dio o il mio re, com'è che non scende a difenderti, tuo Dio, brutto mago simoniaco che altro non sei, beh, fatto sta che dopo, anche i preti della terra di Franza sono stati costretti a pagare le decime, invece di mandarli a Roma, le mandavano al mio re, Filippo il Bello, che tra l'altro Filippo il Bello è quello che poi ha dato una grandissima mazzata ai Templari, sapete che voi lì, 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 lì sulla terra oggi siete tutti matti, tutti pazzi per i Templari, tutti pazzi per i Templari, e chi erano i Templari? Erano dei monaci guerrieri tra l'altro, con degli spadoni, che con la scusa del santo sepolcro avevano messo in piedi un impero finanziario che non ha le quali neanche con oggi, neanche con Rockefeller, ci avevano le banche dappertutto, e il re ha detto, beh, andiamo ad attingere anche al pozzo dei Templari, al pozzo dei Templari, non scherzava mica Filippo il Bello, ma si fa così a mettere in piedi uno stato, si mette, no, no, andare a piangere, a piangere presso altri stati, aiutatemi, aiutatemi, datemi la mano, che poi invece io, so voi a Nizza, o qua, o là, o su e sopra, ma no, questo si chiama agire da vendicanti, così si fa, ha fatto fuori, ha fatto fuori tutti i Templari, quanto oro che ha incamerato il mio re Filippo il Bello, qua, una cosa più bella, quella bella sberla che gli ho dato la Papa a Bonifacio VIII, che sberla, che sberla, e gli ho detto, mago simoniaco, è vero che te la meritavi in sta sberla? Emo sta qua, sta qua giù nel mondo delle ombre, mi sta sempre allarga, che era pure quello che aveva inventato il giubileo, capito, per far cassa, aveva inventato il giubileo, tutto, 1300, proprio 1300, dice, ogni cento anni faremo il giubileo, però sono accorti dopo che i cento anni sono lunghi e che andava accorciato il periodo del giubileo e l'hanno portato a 25, 30 anni, l'hanno accorciato tutto per far cassa, capito? Anche i templari, anche i templari, con la scusa del santo sepolcro, ma quanti quattrini che avevano accumulato? Filippo il Bello gliel'ha spropriato tutti, gliel'ha spropriato i templari, ecco, io sono qua, sono apparso sul mondo del web per dirvi come stanno le cose e nei libri di storia dicono che io, il mio schiaffo è stato uno schiaffo simbolico, non è stato uno schiaffo fisico, no, no, vi posso testimoniare che il mio schiaffo è stato uno schiaffo fisico e vi posso anche dire veramente che era Sciarra Colonna che io volevo dare una grande sberra al Papa, però io to' fermate, tocca a me, questo, questa è la storia dello schiaffo di Anagni, va bene? Vi ho raccontato tutti, cari amici, quindi Guglielmo di Nogaret, adesso se ne ritorna nel mondo delle ombre e continuo le mie chiacchierate con il mio re, Filippo il Bello, e con il vostro francescano, Jacopone D'Adodi, che al Papa Bonifacio VIII gli aveva detto tu sei un novello anticristo, va bene? Cari saluti a tutti voi da Guglielmo di Nogaret.